più stretta più stretta ho detto non hai forza nelle mani l'oroscopo dice che oggi sarà una giornata particolarmente bella oh je m'enfu Ida Ida maestà mi spieghi che succede viaggiamo fino al polo nord ma è ancora impossibile trovare un paio di ragazze che sappiano usare le mani senza rovinarmi la giornata con le loro brutte facce fa del suo meglio maestà non è abbastanza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti